Ragazzi, vi spiego perché questa settimana non sono riuscito a fare il video e quindi non pubblicherò niente. Il motivo è che il martedì stavo cercando di fare il video e quindi dovevo creare dei fegatelli, quindi delle riprese dettagliate di alcune fotocamere per poi montarle in questo video, che doveva essere una roba un po' carina, un po' simpatica, durava poco e non sono riuscito a farlo perché sono arrivati prima un amico, poi un cliente, poi un altro amico, poi non so più chi cavolo è arrivato. Sono andate 57.000 persone, in pratica quel pomeriggio lì non ho fatto video per YouTube, non ho fatto il mio lavoro, ho fatto pubbliche relazioni fondamentalmente e non è servito assolutamente a nulla. Quindi vabbè, perso tempo. Oggi mi sono detto, vabbè, lo faccio oggi, dopo le 5.30, 6, così, mi ero anche rotto di lavorare e ho pensato che mi faccio il video per YouTube. Peccato che i vicini qua hanno pensato bene, sono là fuori, hanno pensato bene di mettersi a tagliare una pianta, quindi motoseghe fino alle 7.30 di sera, per cui ho detto, vabbè, ormai a quest'ora qui non mi metto più a montare le luci, i set, la roba per fare il video. Faccio un video che mi basta il computer e ovviamente il cellulare non metto a fuoco niente, ok? Mi sono messo a fare questo video che secondo me è molto carino, molto interessante, immagino che vi piacerà, che è una spiegazione di come fare a convertire a colori normali le fotografie scattate in pellicola C41 e rifotografate con la macchina digitale, perché avete le fotografie con dei colori totalmente sballati, che fondamentalmente sono, non so se riesco a riprendere, sono questi colori qua, e voi dovete convertirlo. Quindi ho fatto un video per spiegarvi come farlo in Photoshop, peccato che, e lo vedete qui nella timeline, me ne sono accorto adesso, che le due sequenze, quella video che è girata con OBS e quell'audio che è registrata con la Z7 seconda, perché col computer non riesco a registrare l'audio decente, e le ho messe, poi le ho associate assieme, perché ho registrato l'audio anche col computer, quindi poi le ho sincronizzate, una rottura di scatole, niente, la sequenza con OBS a un certo punto si interrompe, e basta, e finisce lì. E quella sequenza lì non c'è, eppure io non l'ho interrotto prima, l'ho interrotto molto dopo aver finito la registrazione con la Z7, quindi mi aspettavo che questa qui fosse lunga fino a qui, questa barra dove arrivare qui, e invece non c'è, non c'è tutta questa parte di video. Questo vuol dire che devo rigirare tutto, devo rigirare tutto dall'inizio. Cioè, ma perché? Cioè io non capisco stasettimana perché deve andare così. Io non sono riuscito a fare niente stasettimana, cioè ho fatto 57.000 cose, non ho combinato niente. Ecco, forse l'unica cosa è questo inizio fotografico di IE, e basta. Non ho fatto niente. Non si riesce a venire a capo di nulla. Nulla. E niente, boh, sono sconfortato. Questa cosa veramente, che palle, non... perché? Perché fa così? Cioè, niente. Questa settimana ragazzi non c'è il video. Tanto sto cellulare fa delle riprese schifose. E settimana prossima allora magari farò uscire quello su quelle fotocamere, che è interessante, anche se questo è anche bello. Questo qui è un video che ci metto... Sì, ci ho messo 20 minuti di registrazione per farlo, più metti che ce ne mettevo altri 40 di montaggio, comunque in un'ora, un'ora e un quarto, avevo fatto il video. Invece quello su quelle fotocamere ci mettevo molto più tempo. Non lo so, vabbè. È così. Cioè, è una settimana che non devo combinare niente. Tra l'altro qui c'è un prodotto da fotografare, non ho ancora fotografato. I soldi non guardati non c'entrano niente con il lavoro, tra l'altro. Quindi, bello. E qui c'è del casino. Perché ho cambiato anche la batteria del computer che non funzionava. Perché, ovviamente, le sfighe non devono arrivare una alla volta, devono arrivare tutte assieme. E niente. Ore 19.55. Io me ne vado a casa. E tanti saluti, perché di mettermi a registrare di nuovo il video mi viene solo male. Ciao a tutti. E buon fine settimana.